Un incontro intenso, il sindaco di Meritopol è stato catturato dai russi e imprigionato, possiamo dire più che catturato, rapito dai russi e imprigionato, fortunatamente poi per lui la situazione si è risolta, ma la città è una città devastata, è una città che ha dentro di sede dolore immenso con le violenze sui propri cittadini e proprio in onore a questa città e al sindaco e rappresentanza di tutti i cittadini della sua città ho dato oggi una medaglia della Camera dei Deputati, c'erano anche dei parlamentari ucraini.